buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere insieme che cos'è real fever real fever segue un po la falsa riga di nba top shot ovvero va a racchiudere nft legati però al mondo del calcio nft video che racchiudono le azioni salienti dei campioni del calcio del passato e del presente sotto forma di nft va a toccare il campo del game in play to earn che sarà sviluppato successivamente marketplace per la compra vendita dagli nft lo staking e secondo dei leak potrebbe creare il primo metaverse dedicato al mondo dello sport è sempre secondo un leak il prossimo drop potrebbe addirittura rappresentare la serie a italiana detto questo andiamo a vedere che cos'è questo progetto ovviamente dopo la sigla nato da una raccolta fondi avviata su polka starter di grande successo real fever va a unire tre grandi comparti per quanto riguarda il settore del gaming ovvero il football gli nft e presto gli nft play to earn ma andiamo per gradi real fever è un'azienda che è nata nel 2015 con un gioco di leghe fantasy di calcio disponibile ovviamente anche tramite applicazione per ios e per android dove attualmente le due applicazioni contano oltre 2 milioni di download real fever vuole essere il leader nel mercato degli nft lanciando il primo marketplace dedicato ai video di calcio e attualmente in fase di sviluppo sarà anche disponibile la versione play to earn real fever sarà essenzialmente composto da tre parti la prima il marketplace nft dei video delle azioni salienti nel mondo del calcio la seconda sezione il gioco nft play to earn la terza sezione le leghe di fanta calcio attualmente per quanto riguarda le community il canale annunci conta 16.523 iscritti al momento della registrazione del video per quanto riguarda la community internazionale 14.687 membri mentre la community italiana è appena nata e non ha neanche un mese di vita e al momento conta solamente nove membri ma verrà pian piano sviluppata insieme al progetto stesso anche perché una nazione come la nostra dove lo sport più importante è il calcio non può avere nove membri all'interno di questa community all'interno di questo gioco real fever è il primo marketplace nft per quanto riguarda i video sportivi dedicati al calcio tutti supportati da licenza ufficiale l'obiettivo è quello di essere un marketplace nft di video sportivi inizialmente di calcio ma pian piano si potrebbero espandere anche in altri cliccando su marketplace possiamo vedere tutti i video nft disponibili per l'acquisto cliccando ad esempio sul primo possiamo notare il titolo delle nft gol di casemiro fc porto in alto possiamo notare la stella speciale numero uno vuol dire che appartiene al first edition drop il gol si riferisce alla stagione 2014 2005 abbiamo una descrizione molto breve era casemiro e di quando ha effettuato questo gol più sotto troviamo alcune informazioni per quanto riguarda il giocatore in oggetto abbiamo il ruolo la nazionalità la data di compleanno dove giocava in quale club il numero della maglia che indossava il prezzo di questo nft attualmente 0,03 bnb al cambio attuale 18,66 dollari abbiamo il la percentuale delle royalty e il service fee che si va a pagare con la transazione cliccando sui quadratini più a sinistra possiamo vedere l nft l'azione saliente e per acquistarlo è semplicissimo basta cliccare su buy now una volta che abbiamo collegato la piattaforma al nostro wallet non custodia al settato ovviamente sulla baena smart chain ovvero meta mask fino a questo momento real fever ha effettuato due nft drop il lancio dei pacchetti della prima lezione ovviamente il drop 1 con 75 mila pacchetti dove sono andati sold out in pochissimo tempo i pacchetti super rari sono andati sold out in meno di un minuto i rari meno di quattro minuti e i pacchetti base in meno di 24 ore e hanno avuto un volume di un milione di dollari nei primi quattro minuti del lancio il secondo drop hanno venduto 36 mila pacchetti in cinque ore con un ricavo di oltre 1,5 milioni di dollari in sovraimpressione possiamo vedere i sold out dei pacchetti di figurine il basic che costava 10 dollari e raro 40 dollari il super raro 70 dollari all'interno di questo ecosistema c'è la presenza anche di un token che si chiama f vr il token utility all'interno del progetto a diverse funzionalità acquistare i pacchetti di carte nft servirà per il play to earn come pagamento verrà utilizzato come ricompense per play to earn game token challenge per il peer to peer nft landing for the game perché si potranno anche prestare i giocatori che abbiamo acquistati avendo dei ritorni economici servirà come reward per il fantasy league e il reward per lo staking dedicato agli nfts e il token feather al momento dalla registrazione di questo video lo troviamo al rank 1105 nella watch list di 15962 utenti che usano coin market cup con un valore di mercato sotto il centesimo di euro con una oscillazione negativa del 4,89 per cento nel momento in cui sto registrando il video è una totale supply circolante che sarà di 16 miliardi naturalmente si può acquistare su gate punto io bitrex pancake swap o all'interno del sito stesso la sezione del gioco più importante per noi utenti a parte il marketplace sarà la sezione del play to earn dove questi nft saranno integrati totalmente sotto forma di carte per poter disputare delle partite contro degli altri utenti ed essendo un play to earn ci sarà l'occasione di poter guadagnare giocando una cosa molto importante che hanno acquistato le licenze a vita per quanto riguarda i momenti salienti sotto forma di nft e questo vuol dire ad esempio che non potremo vedere il video di cristiano ronaldo per quanto riguarda il suo primo gol in carriera che registrata su questa piattaforma non potremo vederla in nessun'altra piattaforma simile perché hanno registrato a vita la licenza ufficiale e non potrà essere neanche riprodotti sulle sulle edizioni future sempre all'interno della piattaforma stessa quindi questo è un valore aggiunto che va a crescere il valore di ogni singolo nft e per quanto riguarda delle voci secondo alcuni insider addirittura il prossimo drop potrebbe essere della serie a è un'altra importante rivelazione sempre da un possibile insider e che real fever stia costruendo un metaverso sportivo il primo metaverso sportivo quindi ovviamente tutto questo non è assolutamente un consiglio finanziario ci mancherebbe altro lo sapete benissimo che non mi permetterei mai di darvi un consiglio finanziario del genere però tenete sotto osservazione questo progetto tenete sotto osservazione il loro token e i loro sviluppi perché non si sa mai che potrebbe essere veramente una piccola perla per acquistare il token senza il passaggio dallo swap oppure da un exchange basta cliccare in alta sinistra su acquista il token si aprirà questa schermata dove non dovremo far altro che inserire il quantitativo che vogliamo spendere in euro ad esempio 50 mi raccomando bisogna sempre connettere il wallet metamask settato sulla rete bsc perché noi andremo per l'appunto come vedete in sovraimpressione a scambiare 50 euro per il token su bsc per usare metamask o un qualsiasi wallet settato sulla biana smart chain bisogna avere delle porzioni di bnb per pagare le commissioni del network arrivati comunque a questo punto selezionato l'importo clicchiamo su acquista token pagamento con visa e si apre questo processore dove noi andremo a vedere l'importo quanti token andremo ad ottenere le fi per quanto riguarda la transazione infatti noi andiamo a spendere 50 euro dove riceveremo 47 euro e 31 centesimi di controvalore in token ci saranno 2,49 centesimi di euro di fi e 20 centesimi per quanto riguarda il network cliccando su procedi bisogna andare a effettuare la sorta di che si all'interno del sito è possibile anche andare a mettere a rendita il token che abbiamo appena acquistato possiamo andare inserire in una delle due pool purtroppo attualmente sono complete però potete vedere che potevamo inserire i nostri token e avere un 40 per cento di ritorno apr o un 50 per 100 apr bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che questo video lo abbiate trovato utile e interessante vi invito qualora non lo abbiate ancora fatto ad iscrivervi al canale youtube a lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di youtube e in ultimo se avete voglia di unire bianca la nostra community su telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e per essere sempre aggiornati su quello che capita nel settore giornalmente vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo presto ciao a tutti